Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Firenze Sud e Firenze Scandici e tra Firenze Sud e B1 variante. Per viabilità esterna che non riceve trovi almeno oltre code in uscita a Firenze Scandici nelle due provenienze. Siamo alla 11 dove restano 3 km di coda stabili per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e B1. Con la 1. Qualche problema in Fipili per incidente che coinvolge mezzo pesante troviamo tratto chiuso con traffico bloccato e coda al suo interno in direzione mare tra Lastra e Ginestra. Attenzione per chi proviene da Firenze uscita obbligatoria Lastra a Signa. Per tratto chiuso inoltre coda di 4 km sempre in direzione mare tra Firenze veduta all'Indiano e Lastra a Signa. In carreggiata opposta si transita sulla sola corsia di marcia e si è creata una coda di 4 km tra Ginestra e Lastra a Signa. Buon aversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!